E' stato arrestato invece mentre stava tranquillamente passeggiando nel centro del paesino in provincia di Caserta dove abita con la sua famiglia un uomo considerato colui che ha fornito le armi all'attentatore di Nizza. Da qualche mese viveva con la sua famiglia a Sparanise in provincia di Caserta ed era considerato un insospettabile. Lo si vedeva spesso passeggiare nel centro del paese con il figlio piccolo, proprio come ieri quando la Ligos e l'antiterrorismo coordinati dalla procura di Napoli lo hanno arrestato con l'accusa di aver fornito le armi all'attentatore di Nizza Mohamed Awey Bulel che il 14 luglio del 2016 con un camion uccise 86 persone e ne ferì oltre 300 sulla promenade de Zanglais prima di essere neutralizzato dalla polizia. Si chiama Henry Elezi, 28 anni, albanese. Contro di lui era stato spiccato dalle autorità francesi un mandato d'arresto europeo per associazione a delinquere traffico d'armi nell'inchiesta sulla strage di Nizza. Secondo la polizia, quando Henry Elezi fornì le armi a Bulel però, non era a conoscenza dei suoi progetti stragisti. A Sparanise aveva cercato di confondersi con la comunità. Era un ragazzo integrato, tranquillo, dice oggi di lui il sindaco Salvatore Martiello. Mai nessun problema. L'arresto in Italia del complice dell'autore della strage di Nizza conferma le elevate capacità degli investigatori antiterrorismo della polizia, ha detto il ministro dell'interno Luciano Lamorgese. Le indagini continuano nel massimo riservo per accertare la rete di fiancheggiatori che lo ha protetto.